Insegnare agli adulti di domani la legalità è l'obiettivo del percorso intrapreso dalla Camera di Commercio giunto alla quinta edizione sulla lotta e sensibilizzazione alle mafie dedicata agli istituti di scuola secondaria superiore per il prossimo anno scolastico. Queste nuove generazioni che saranno magari imprenditori o professionisti avranno modo e l'opportunità di capire cosa succede e come si può prevenire l'infiltrazione della mafia e del malaffare in un sistema produttivo come quello Veneto un sistema molto importante con tante imprese e con tanti cantieri che si stanno aprendo e che sono aperti. 2.600 studenti, 119 classi, 28 istituti tra le province di Venezia, Treviso, Padova, Belluno e Rovigo che hanno partecipato alla quarta edizione con 68 eventi organizzati di cui 10 conferenze spettacolo. Il percorso rientra nell'ambito del protocollo d'intesa firmato dalla sezione regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Libera e Union Camere Veneto. Abbiamo anche avuto la possibilità di portare con i classi in aula di giustizia a seguire alcuni processi uno a Verona e uno a Venezia in tema di mafia e quindi i ragazzi hanno potuto anche toccare con mano cosa comporta il sviluppo di un processo penale per questi casi, per questi temi e quindi meglio comprendere le difficoltà che ci sono attorno alla presenza mafiosa nella nostra vita. Di sanzioni ne facciamo veramente molto poche, teniamo presente che su 180.000 imprese iscritte in tutta Italia le segnalazioni sono 62, 63, sono sotto lo 0,1% quindi veramente molto poche però quello che succede fuori da noi, questo compete alle forze dell'ordine noi quello che vogliamo fare è diffondere con questo progetto la legalità. Fondamentale nella lotta alle infiltrazioni mafiosi il coraggio di segnalare e denunciare. È uno dei problemi che bisogna risolvere nel senso che l'imprenditore quando è in difficoltà non ha il coraggio di parlare delle proprie difficoltà con chi potrebbe dargli una mano potrebbe essere la Camera di Commercio, il Comune, il Parroco o un'istituzione qualsiasi che è tenuta alla riservatezza.